per realizzare questo dolce avremo bisogno di latte, gelatina in fogli, cioccolato bianco, panna fresca da montare e aroma alla vaniglia o bacca di vaniglia. Poi avremo bisogno di un biscuit e del croccante, vi lascio le ricette del biscuit e del croccante qui sotto nell'info box ci sono già dei video. Ho iniziato preparando la mousse mettendo la gelatina in ammollo in acqua fredda. Ora verso il latte in un pentolino, porto il pentolino sul fuoco e faccio scaldare molto bene il latte poi ci andrò a sciogliere la gelatina. Nel frattempo inserisco il cioccolato bianco nel microonde e lo faccio sciogliere. Il latte è caldo e ora ci vado ad inserire la gelatina strizzata. Ho sciolto il cioccolato bianco e ora ci vado subito ad aggiungere il latte. Ora ci aggiungo un po' di aroma alla vaniglia. Se avete i baccelli di vaniglia potete aggiungerli quando state scaldando il latte. Lascio che questo composto si raffreddi circa sui 30 gradi. Nel frattempo vado a semimontare la panna. Ora che la temperatura è di circa 30 gradi vado ad inserirci la panna semimontata in più volte. Ecco qua la consistenza della nostra crema pronta per essere utilizzata nella torta. Questo è lo stampo che utilizzerò io. La sua grandezza è 15 cm x 15 cm. Se non avete questo stampo potete utilizzare uno stampo rotondo di 20 cm di diametro. Vado a versare la mia crema all'interno dello stampo. Ora ci vado a versare il mio croccante e ora ci metto il pan di spagna che ho tagliato. Lo immergo leggermente per far livellare bene la superficie della torta. Vado a congelare la mia torta per almeno un giorno. Mentre aspettiamo che la torta si congeli vado a tagliare la mia ostia. Questa è stata realizzata con la pasta di zucchero. L'ho realizzata tramite internet. Ho scelto il dipinto che più mi piaceva e l'ho fatto tagliare giusto giusto la misura dello stampo. Quindi ora andrò a fare tutti i quadratini, taglierò con le forbici della stessa grandezza dei quadratini dello stampo. Ecco qua in questo modo ho tagliato l'ostia in nove parti e poi le andrò ad adagiare sopra la mia torta. Ora ho sformato la torta e l'ho messa su un vassoio con della carta forno sotto perché andrò a spruzzare gli spray effetto velluto. Mi metterò fuori per questa operazione. Utilizzerò gli spray effetto velluto della vellutina. Vi avevo lasciato un video qua sotto dove vi faccio vedere quali erano gli spray effetto velluto secondo me migliori. Io utilizzo sempre questi e mi trovo benissimo. Vi lascio qua sotto il link dove potete vederli e farò un misto tra l'azzurro, il bianco e l'oro metallizzato. Grazie mille. Ecco la torta completata. Io spero vi piaccia. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, se vi piace e se la realizzerete per questo Natale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!